C'è che è normale non ristretto perché se un alzono va bene massimo se no diventa crema con lo zucchero Karen no è sabato cominciamo prima questo poi il dolce e abbiamo il super pranzo buono buono caffè l'abbiamo preso adesso passiamo al dolce bene oggi sabato 18 marzo abbiamo fatto spuntino abbiamo fatto spesa molto bene domani l'ultima domenica tranquilli perché poi un attimo domenica 26 non è l'ora legale che ci preoccupa si parte quindi ormai manca pochissimo siamo stati al centro commerciale abbiamo fatto shopping come si nota ecco non abbiamo fatto il nuovo cartomizzatore e si era rotto il vetro quindi adesso ecco a posto abbiamo fatto gli ultimi acquisti perché non sappiamo a maniera sicuramente i liquidi ci saranno poi vedremo potremmo anche trovarsi in difficoltà quindi abbiamo preso una certa collezione di resistenze nuove funziona regolarmente dice di fare le corte intanto abbiamo sempre la riserva e quell'altro che funziona abbastanza bene questo è abbastanza nuovo come cartomizzatore la batteria è perfetta come si vede tutto elettronico avevamo bisogno di degli ultimi particolari è quasi tutto pronto manca pochissimo si prepara i bagagli le valigie e il 20 26 saremo a maniera non sappiamo dove realizzeremo il video perché dipende dove andiamo ad abitare c'è il problema zanzale il problema moschito tutti questi problemi molto bene siamo qui una bella giornata la temperatura comincia a salire a maniera sicuramente non sappiamo se avremo nell'aria condizionata non sappiamo niente sono viaggi che si organizzano attimo dopo attimo molto bene sappiamo che i nostri video li continueremo perché andiamo a conferire che porteremo sicuramente questo vedremo per la macchina fotografica perché in effetti già il samsung s6 va benissimo per i video è favoloso manca soltanto la data profetto molto bene